Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Scandalo nella Royal Family. Dopo 40 anni spunta fuori tutta la verità, è lei la mamma segreta dei principi Harry e William Ecco che cosa sta succedendo in una delle dynostie più potenti d'Europa. William e Harry.Salta fuori un'indiscrezione che lascia tutti senza parole Dopo 40 anni ecco tutta la verità, è lei la vera mamma di Harry e William Scandalo a Windsor.Scandalo a Windsor, dopo 40 anni spunta fuori una scomoda verità Harry e William sono i nipoti prediletti della regina Elisabetta Da quando entrambi sono convolati a nozze, le strade dei due fratelli si sono separate definitivamente Principi d'Inghilterra.La famiglia reale non ha accettato, con grande entusiasmo, il matrimonio del secondo genito del principe Carlo con l'ex attrice americana, Meghan Markle e ancora meno è piaciuta alla Royal Family la decisione del principe di interrompere ogni rapporto di sudditanza con la corona britannica Se è vero che i loro rapporti, oggi sono più freddi che mai, un tempo, però, i due fratelli erano tanto legati Dei figli di Lady Diana e del principe Carlo si è sempre parlato I principini sono sempre stati al centro dell'attenzione e anche da adulti, continuano ad essere protagonisti di gossip e scandali A tal proposito, spunta fuori un'indiscrezione che lascia tutti sbigottiti, la mamma dei due rampolli di casa Windsor e un'altra donna Ecco tutta la verità dopo 40 anni.Chi è la vera mamma di Harry e William? Lady Diana non è la vera mamma di Harry e William? Spunta un'indiscrezione che lascia sbigottiti Il magazine tedesco Main and Freizeit, ha dedicato un numero ai due rampolli di casa Windsor affermando che la vera madre dei due principi porta un altro nome, quello di Tigi Leggeberg Lady Diana con i figli.In realtà, lo scoop riportato dal settimanale tedesco deve essere letto in chiave metaforica Viene citata tale Tigi Leggeberg per indicare una figura fondamentale nella vita dei due principini Tigi Leggeberg.La donna in questione altri non è che la è stata dei figli di Lady Diana La signora Tigi si è occupata di Harry e William fin dai loro primi anni di vita In più occasioni, si è sostituita anche alla principessa quando quest'ultima non è stata bene per via dei suoi profondi momenti di malinconia e tristezza causati da un matrimonio troppo affollato Tigi Leggeberg viene assunta nel 1993 da Carlo Bella, intelligente e affascinante, si dice che si è entrata più volte in conflitto con la principessa Diana la quale era convinta che la tata dei suoi figli avesse una relazione clandestina con il principe Carlo Tigi Leggeberg, tata di Harry e William.Voci, queste, che non sono state mai confermate Tigi Leggeberg è stata per Harry e William davvero una seconda mamma I principi ancora tutt'oggi continuano ad essere legati a lei Lo sapevate, per esempio, che è stata scelta per essere la madrina di Archie, figlio di Harry e Meghan? La tata si è sempre comportata in modo amorevole con i principi, mostrando sempre un grande affetto materno, tanto da essere considerata la loro mamma del cuore Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video